Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato Tg. Partiamo dal consueto bilancio dei nuovi casi da coronavirus. Bene, zero contagi e zero decessi a Prato e in tutta la Toscana sono solo 24 i nuovi casi. Quindi il bollettino della regione certifica una situazione che va verso il ritorno alla normalità. Facciamo il punto nel servizio di Claudio Vannacci. Zero nuovi contagi e zero decessi a Prato. Questa è la situazione fotografata dal bollettino della regione alle 12 di oggi rispetto alle 24 ore precedenti. Quindi di nuovo un doppio zero che conferma l'appiattimento della curva dell'emergenza Covid-19 a Prato. I casi di positività in città e provincia restano fermi a 536, mentre le vittime del coronavirus sono sempre 43. In attesa del bollettino dell'Asle Toscana Centro, diramato più tardi con diverse tempistiche in modalità di conteggio, bisogna quindi registrare l'ennesima giornata rosea sul fronte della lotta all'epidemia. Se guardiamo alla Toscana, inoltre, i dati continuano a sorridere. Da ieri i nuovi tamponi positivi sono appena 24. Il totale sale a 9.745 casi. Il punto più basso dal 4 marzo, quando però i tamponi analizzati erano pochi centinaia, mentre solo nelle ultime 24 ore sono stati 4.285. I guariti crescono del 3,8% e raggiungano quota 4.360. Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 4.448, il 3,1% in meno rispetto a ieri. Si registrano purtroppo sette nuovi decessi, sei uomini e una donna con un'età media di 80,3 anni. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicate a pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 443, 40 in meno di ieri, di cui 79 in terapia intensiva e anche qui la diminuzione è di 5 rispetto a ieri. Questi numeri positivi sicuramente per l'andamento del coronavirus contribuiscono però a abbassare il livello di paura e quindi anche quello di attenzione con il rischio che le persone quando escono di casa non si comportino come devono. Per evitare il cosiddetto effetto navigli, oggi la Polizia Municipale in centro a Prato e lungo le piste ciclabili nei giardini ha fatto un super lavoro di controllo e di prevenzione e si è alzato in volo anche il drone come le panchine di piazza del comune che sono state recintate da fettucce per evitare che qualcuno ci si sieda. Facciamo il punto nel servizio. Sono obbligatori per la mascherina e la distanza interpersonale che dati di assentamenti diventiamo la massima responsabilità. È la voce del sindaco Matteo Biffoni che in un messaggio registrato trasmesso via megafono ha invitato la popolazione a indossare la mascherina, a tenere la giusta distanza dagli altri e a evitare raggruppamenti di persone. È stata una giornata impegnativa per la Polizia Municipale di Prato chiamata a fronteggiare eventuali comportamenti scorretti da parte dei cittadini rispetto alle nuove misure di contenimento del coronavirus. Tutto il giorno ma soprattutto la mattina il centro storico, le piste ciclabili e molte aree verdi sono risultate affollate. Troppo rispetto al rischio di contagio che è ancora alto, i numeri dei nuovi casi migliorano giorno per giorno e questo contribuisce a ridurre la paura e di conseguenza ad abbassare la guardia per evitare l'effetto navigli, il comune di Prato è corso ai ripari con un notevole dispiegamento di mezzi e impedendo la seduta sulle panchine di piazza del comune circondate con la fettuccia. Nel pomeriggio è stato fatto volare il drone per perlustrare le piste ciclabili e i giardini a caccia di pericolosi assembramenti. La sensazione è che i cittadini non riescano ancora ad applicare una sorta di autoregolamentazione quando escono di casa. C'è ancora bisogno della forza pubblica per far capire cosa si possa o non si possa fare a tutela della collettività perché gli eccessi e le violazioni del singolo possono avere conseguenze pesanti per tutti. Allarme e polpette avvelenate a tavola dove nella giornata di ieri almeno due cani si sono sentiti male dopo aver ingerito dei bocconi trovati in una aiuola in via Iorio Borchi. Immediato l'allarme della Polizia Municipale che intorno alle 20 e 30 di ieri ha fatto un sopralluogo rinvenendo almeno 5 bocconi sospetti. Si tratta di polpette di carne macinata che erano state disseminate lungo la siepe che circonda l'area verde. Sono state sequestrate e inviate al laboratorio per essere analizzate e capire se sono effettivamente avvelenate. La Polizia Municipale ha poi fatto intervenire gli operatori di Alia che hanno bonificato l'intera zona verificando che non potessero esserci altri bocconi sparsi nell'erba. E ora parliamo di scuola perché questa mattina la provincia ha presentato il progetto per un nuovo edificio scolastico che sorgerà accanto al liceo Copernico. La parola d'ordine per questa struttura è flessibilità. Sentiamo. Struttura in legno, facciate rivestite in zinco titanio e una copertura a forma di pagoda è volto alla massima flessibilità funzionale il nuovo edificio scolastico che sarà costruito accanto al liceo Copernico in via Borgo Valsugana sostituendo il prefabbricato dove attualmente assede l'ufficio scolastico provinciale. L'obiettivo è rendere utilizzabile la nuova costruzione nel settembre del 2022. Solo allora capiremo se la struttura sarà utilizzata come ampliamento del liceo Copernico o di qualche altra scuola, ad esempio il liceo Livi che attualmente scoppia. Molto dipenderà dalle iscrizioni e dalle linee guida che a breve il Ministero dell'Istruzione dovrebbe dare per la ripresa delle scuole dopo l'emergenza coronavirus. Il progetto definitivo è stato presentato questa mattina dal Presidente della provincia Francesco Pugeli, dal suo tecnico l'ingegnere Irene Serrau e dal progettista l'architetto Daniele Rangone dello Studio 77, leader nazionale nella costruzione di scuole con soluzioni tecnologiche innovative. Nei nuovi 1.350 m2 troveranno posto 10 aule di varie dimensioni, due laboratori, uno spazio lettura e uno di aggregazione. Sono tutti spazi modulari, compresi i corridoi, che è possibile modificare in base alle esigenze del momento. È una zona a rischio alluvione per cui l'edificio è rialzato dal piano campagna di 80 cm per evitare allagamenti. Ha un serbatoio per le acque piovane da usare per l'esterno e un impianto fotovoltaico. I consumi quindi sono prossimi allo zero. L'opera costa 3.600.000 euro che saranno coperti dal Ministero dell'Istruzione grazie a uno specifico bando che ha visto la provincia piazzarsi in ottima posizione. Noi fondamentalmente stiamo cercando di dotare gli studenti fratesi di ambienti adeguati dove poter studiare, ma che siano in grado di poter essere riadattati di fronte a qualsiasi scenario. Questa è una sfida grande che ci permette non solo di dare una risposta alla cronica carenza di spazi strutturali, ma di dargli anche spazi che siano in grado di crescere e di riadattarsi alla scuola del futuro. Popolare di Vicenza troppo pigra nel gestire la tesoreria del Comune di Prato e quindi la Corte dei Conti ha condannato la banca a risarcire 50.000 euro proprio al Comune. Sentiamo Nadia Tarantino. La Banca Popolare di Vicenza da tre anni in liquidazione coatta amministrativa in seguito al dissesto finanziario è stata condannata dalla Corte dei Conti della Toscana a risarcire con quasi 50.000 euro il Comune di Prato. All'origine della sentenza una serie di irregolarità sulla gestione dei conti dell'ente operate tra il 2009 e il 2013, anni in cui l'Istituto di Credito Vicentino era tesoriere del Comune. Le irregolarità sono emerse in seguito a una complessa verifica dei diversi conti correnti accesi quando l'insegna era ancora quella della Cassa di Risparmio di Prato. Stando alla ricostruzione della Procura Contabile e al successivo convincimento dei giudici, la BPV ha svuotato con ritardo i conti correnti postali intestati al Comune di Prato causando in questo modo un danno alle casse pubbliche pari alla differenza tra il rendimento lordo che sarebbe stato percepito se i soldi fossero stati subito prelevati e riversati in tesoreria e quanto effettivamente percepito da poste italiane. Accanto a questo anche il danno per la ritardata erogazione tra il 2009 e il 2012 del contributo di sponsorizzazione che secondo le carte è stato corrisposto non entro la fine dell'anno di riferimento ma in quello successivo. E ancora il riconoscimento già nel 2012 di un compenso al tesoriere per il servizio svolto nonostante questa voce sia stata introdotta negli accordi solo nel 2013. Irregolarità che sono costate all'attuale amministrazione della BPV 47.624 euro. E' questa la somma che il Comune di Prato incasserà da quella che per anni è stata la banca di riferimento del territorio. Il procedimento contabile è scaturito da una relazione di irregolarità arredata dal Comune nel 2015 e integrata nel 2018. Contestazioni addebitate solo a BPV ma in ultima battuta notificate anche a Intesa San Paolo che a giugno 2017 aveva formalizzato l'acquisizione della Banca Veneta. Intesa San Paolo è uscita poi di scena perché i giudici hanno accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. In altre parole, sì, Intesa San Paolo è subentrata a BPV ma non per tutti i rapporti giuridico-patrimoniali già in corso come quello con il Comune di Prato. E' una studentessa di Parma, la vincitrice della nona edizione del premio letterario Arte di Parole con un racconto dedicato all'emergenza coronavirus proprio a causa dell'epidemia. La cerimonia di consegna quest'anno è stata online e in streaming. Sentiamo Claudio Vannacci. E' Eleonora Agostinelli del liceo scientifico Marconi di Parma con il racconto intitolato Silenzio la vincitrice della nona edizione del premio Città di Prato Arte di Parole Gianni Conti premio letterario nazionale riservato alle scuole superiori di secondo grado. Tema di questa edizione era Dentro Fuori che la giovane studentessa parmigiana ha declinato nel segno dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e il mondo, il coronavirus. Eleonora nel suo racconto racconta l'esperienza di una dottoressa anestesista e attraverso di lei celebra il sacrificio esistenziale di chi è impegnato a fronteggiare l'emergenza. Il coronavirus è al centro anche del secondo racconto classificato scritto da Giulia Pietrosanti del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano terzo posto per Franco D'Andria del liceo scientifico Istituto Suore Mantellate di Pistoia. Quest'anno ci sono state centinaia di proposte che manifestano un'attenzione per la lettura oltre che per la scrittura e a tutti gli effetti il premio della nostra città. Tema di quest'anno era perfettamente pertinente in anticipo sui tempi era Dentro o Fuori. La cerimonia di premiazione è stata trasmessa in diretta streaming dalla Sala Giunta del Comune di Prato una modalità quella online dovuta alle ben note limitazioni per il coronavirus. Oggi che era il giorno previsto per la premiazione in biblioteca alla Zerignana l'abbiamo svolto in streaming grazie al Comune di Prato. Ci sembrava doveroso premiare oggi per la qualità dei racconti, per la partecipazione e per l'entusiasmo che i ragazzi hanno messo nel creare e lavorare i racconti che sono stati tutti di ottimo livello. Anche questa edizione del premio ha visto come testimoniale il cantante Piero Pelù. Il premio Città di Prato riservato al miglior racconto pratese è stato assegnato a Ginevra Corsini del liceo scientifico Copernico. Il miglior racconto del Gramsci Keynes è stato invece quello di Amine Arraga mentre il premio per l'immagine della locandina è andato a Emma Orlandi del liceo artistico Brunelleschi. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata e buona domenica.